Raffaele si cilenta in un film come questo, un'opera prima con attori, non solo con attori non professionisti, ma con persone comuni. Questo è un altro elemento che caratterizza questo film. Quasi tutti gli attori nel film, Alessandra è qui presente, non l'hanno mai recitato prima. Infatti Alessandra, che è l'attrice protagonista, è quella che è cimentata in queste esperienze e non sembra proprio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sono in piedi con piacere perché è comunque stato un film legato al nostro territorio e ci temo molto.